WAU è un'associazione non profit nata con l'intento di aiutare i ragazzi a sviluppare al meglio le proprie competenze umane. Siamo qui per fare in modo che attraverso dei laboratori che facciamo con dei coach professionisti riescano a capire esattamente cosa voglia dire entrare in contatto con il proprio talento. Dopodiché abbiamo quattro percorsi differenti che vanno ad orientare i giovani in quattro differenti aree. La prima è un orientamento verso il mondo digitale, la digitalizzazione e la transizione digitale. Il secondo percorso è quello legato alla sostenibilità verso un mondo e una transizione ecologica che ancora oggi è importante e fondamentale per tutte le aziende del territorio. Il terzo è un percorso di orientamento verso il project management, non tanto come professione ma come metodo di lavoro. Ultimo ma non per importanza il corso di orientamento nel mondo commerciale che aiuta i giovani a scoprire quali sono le soft skills che servono per essere dei buoni venditori e degli ottimi consulenti di vendita.